La gilla, altro traversone, attenzione a Kozak, colpo di testa, sul fondo con Buffon che comunque copriva il primo palo, è rimasto a terra... Oh sangue, è rimasto a terra Pasqualla, sangue, sangue... E allora, brutta ferita per Manuel Pasqualla, brutte immagini, brutta, bruttissimo taglio, bruttissimo taglio... Chiede subito il cambio a Bolucci, ma è chiaro, andiamo a rivedere, il comito largo di Kozak, involontario ovviamente però dolorosissimo per Manuel Pasqualla, brutto taglio, pochi decimi di secondo, tremende queste immagini, e allora noi ci fermiamo per un istante.